Preghiera significa che stai dicendo a Dio cosa fare. Pensi di essere il consulente di Dio. Meditazione significa che stai zitto e basta. Se stai zitto e basta, tutto quello che ti deve accadere ti accadrà. Quindi toccare quella dimensione che oltre al fisico significa che vuoi toccare la dimensione che è la base del fisico. Quando dici ciò che è la base del fisico, quello che stai dicendo è che non ti interessa la creazione, ma ti interessa la fonte della creazione. Lì, se vai a stare di fronte al creatore, almeno lì devi tenere giù le tue idee, non è vero? Le tue idee devono essere tenute giù per qualche tempo quando il creatore è qui, non è così? Non è lui l'idea più grande? È come... C'era un uomo in Pennsylvania. Da dove vieni? Ah, piove, non ci sono allagamenti lì. Ecco perché abbiamo messo Seattle sulla costa. Altrimenti si sarebbe allagato quel posto, sai? Quindi in Pennsylvania, c'era un uomo in Pennsylvania. Una volta ci fu una grande alluvione. Ti va bene se c'è una storiella nella storiella? Ti va bene? L'alluvione iniziava ad accadere. L'acqua si stava alzando. E c'era un giovane giornalista molto entusiasta che raccontava fase per fase, ora per ora, come l'alluvione stava progredendo, sai? Perché questo è il giornalismo. Qualcuno sta annegando. Raccontare al mondo. Quest'uomo sta annegando. Guardalo mentre annega. Riprendilo e mostra a tutti come un uomo annega. Non butti la maledetta telecamera e vai a prendere l'uomo. No. Mostri al mondo intero come un uomo può annegare in un'alluvione. Quindi, quelli non erano i tempi delle telecamere. E' solo con il codice Mors che viene inviato il servizio. Quindi inviò il servizio. Molto eloquentemente disse, Mentre Dio sta seduto a guardare, l'acqua sale in quella parte della Pensilvania. Le case vanno giù e quant'altro. E lo descrisse in termini molto eloquenti. Allora ricevette immediatamente una risposta dal suo direttore. Lascia perdere l'alluvione. Intervista Dio. Dio sta seduto a guardare? Aveva pensato che fosse lì da qualche parte. Dimentica l'alluvione. Intervista Dio. Non riuscirono ad intervistarlo. Continuò. Molte case furono sommerse, molte persone morirono, ma un uomo sopravvisse. Questo sopravvissuto andò a New York e condivise con la gente come era sopravvissuto a un'alluvione in Pensilvania in cui così tante persone erano morte. Le persone si radunarono. Poi andò a Boston e parlò di come era sopravvissuto a un'alluvione in Pensilvania e altre persone si radunarono. Poi venne a Seattle e condivise. Altre persone si radunarono. Poi iniziò il suo spettacolo itinerante di città in città parlando e parlando di come era sopravvissuto a un'alluvione in Pensilvania. Diventò un famoso oratore in America. E poi, naturalmente, sai, ogni americano deve scrivere un libro nell'arco della sua vita. Così scrisse un libro. Come era sopravvissuto a un'alluvione in Pensilvania. Diventò famoso, parlò ovunque. I suoi impegni diventarono internazionali. Diventò milionario, vendette milioni di libri. Per tutta la sua vita parlò solo di come era sopravvissuto a un'alluvione in Pensilvania. e un giorno morì. Non in un'alluvione, morì. E fecero un'assemblea attraverso i cancelli parlati e c'era un'assemblea di persone e c'era l'opportunità di parlare. Qualcuno poteva parlare. Così, disse i suoi vicini, condividerò la mia esperienza di come sono sopravvissuto a un'alluvione in Pensilvania. Qualcuno gli diede una gomitata e disse ce n'è tra il pubblico. Ok? Quindi ora non vai a metterti di fronte a ciò che è la base della creazione buttandogli addosso le tue idee. tu sei un'idea sua. Sì? Sei solo un prodotto della sua idea. Se lui ritira la sua idea, sei andato. quindi non tiri fuori le tue idee. Questa è l'essenza dell'essere meditativi. Preghiera significa che stai dicendo a Dio cosa fare. Pensi di essere il consulente di Dio. Meditazione significa che hai capito le tue limitazioni. Ora stai zitto e basta. Se stai zitto e basta, stai zitto a tutti i livelli, tutto ciò che deve accaderti ti accadrà. Tutta la formazione è solo per aiutarti a stare zitto. Così che tu non butti le tue sciocche idee addosso il creatore. Stai zitto e basta. Così